Perchè sono vestito così Luca? Macho Man! Parliamo di Macho Man, no? Finalmente, giusto? Finally, parliamo del greatest wrestler per me degli anni 80-90, Randy Savage. Però, dato che questa è la nostra rubrica sulla storia della WCW, non parleremo degli anni per cui tutti ricordano Macho Man. Gli anni della WWF, gli anni in cui divenne una superstar, una celebrità a livello mondiale, ma parleremo di una parte della sua carriera bizzarra di cui nessuno parla. Ovvero i ben sei anni che Macho passò in WCW. Incredibili sei anni, perché pensare che sia stato sei anni in WCW... C'è stato quattro volte il titolo, tra l'altro. Tra le altre cose, senza che nessuno si accorgesse molte volte, purtroppo. Ma la storia di Macho in WCW, diciamo, è coerente con quella che sta la sua storia in WWF. Che succede in WWF? Macho Man arriva allo Stardom, insomma, tra WrestleMania 3 e WrestleMania 4. WrestleMania 3, match storico con Ricky Stimbot per il titolo di Dragon. Per la semina 4, macho, vince un torneo per decidere il nuovo campione WWF. Perché ricordiamo, Luca, quello era il periodo in cui Hogan si era allontanato da WWF per andare a fare film, giusto? Sì, Hogan perse il titolo quando, insomma, Andre the Giant, che poi regalò il titolo a Teddy Biase. Ovviamente non si poteva fare questa cosa. Hogan andò a fare una serie di film orribili. Perché erano orribili. No Holds, Bard e tutta quella robaccia. E quindi Macho, diciamo, era un po' il successore di Hogan e infatti mantenne il titolo per un anno. Macho era, insomma, molto popolare nel pubblico, grande carisma, grande beta surringa anche al contrario di Hogan. Però che succede? Che quello che sarà un trend, purtroppo, nella carriera di Randy Savage, torna Hogan e immediatamente lui deve passare al secondo posto. Infatti, con il ritorno di Hogan, inizia quella storyline bellissima dei Megapowers, con Hogan e Macho che prima formano un tag team, poi litigano per la gelosia di Macho nei confronti di Elizabeth, anche questo era un altro trend della sua vita, e arrivano a scontrarsi, per se meno, a cinque, ovviamente, nel main event, che è anche uno dei match più belli, se non è più rappresentativi, poi, della storia del wrestling di quegli anni. Tanta, sicuramente. Hogan riprende il titolo e da lì Macho inizia a passare in secondo piano. Arriva Ultimate Warrior, ovviamente, quindi la nuova stella sarà Ultimate Warrior. E, diciamo, lì Macho fatica un po' a trovare la sua dimensione, al punto che fa un match. Si rilancia, si rilancia per un periodo. No, sì, volevo dire, nel 2007, lui perde un match per il Riti, cioè, in cui c'è la sua perdita in palio, contro Ultimate Warrior, e da lì passa a fare. L'altro Ultimate Warrior lo conta mettendogli un piede sul petto, cosa contro gli accordi, generando anche problemi al backpage, perché è un mancanza di rispetto enorme. Enorme, enorme, appunto. E da lì passa a fare il commentatore, perché a Vince piaceva molto al commento, Macho è anche molto bravo e piace molto al pubblico. Vince, il titolo, Macho, però, nel feudo con Ric Flair. Sì, perché lui non voleva, ovviamente, lasciare il ring, quindi, per Versa in Mania 8, c'è un altro feudo bellissimo, con Ric Flair, ancora una volta, con il match. It was mine. Fanno un match anche stupendo per il titolo, però anche in quella Versa in Mania, Luca, non è l'unico main event. Qual è l'altro main event? Alcocan contro Steve. Esatto, quindi il trend è sempre quello, purtroppo deve stare sempre nell'ombra di Hogan. Da lì, ultimi due anni in WWF, quasi sempre al commento, niente di memorabile, addirittura l'ultimo suo match a Versa in Mania contro Crash. Guarda, ti dico, lui invece di Crash avrebbe dovuto, anzi voluto, affrontare Shawn Michaels in quella Versa in Mania, però Vince McMahon non era d'accordo perché vedeva in Crash l'occione grosso, potente, che tanto piaceva a McMahon e qui fece quel feudo contro Crash e poi se ti vide forse l'ultima volta avessi me a 10, se non mi sbaglio. Sì, 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 esattamente. Quindi, Match lascia la WWF soprattutto per una differenza di vedute con Vince McMahon, che non vedeva più Randy Sattivo, ma lo voleva soprattutto a commento, a Match non andava bene, anche se, come noi sappiamo, lui era la giravoce che il motivo per cui era un po' caduto dalle grazie era che, dietro le quinte, lui aveva avuto una relazione con una buone figlia, all'epoca di Vince, Stefani. Sì, e questa è la disceria, insomma, il pettegolezzo più vecchio, forse, della storia del Vresti. Questa è... Mi senti? Sì, quello che si dice, insomma, questa è la storia che si racconta, e anche Match, poi, in anni successivi, insomma, farà un po'... Ci marcerà anche un po' su. Ci marcerà anche un po' su. Però, quello che... adesso arriviamo a parlare del passaggio alla WCW. WCW nel 94. Poco dopo, anche qui, vediamo già il primo problema di Macho Man in WCW, che va quando va a Hogan, quindi, nuovamente, è in secondo piano rispetto a Hogan. Però, attenzione, perché Macho va alla WCW portandosi con sé un contratto pubblicitario estremamente lucrativo che lui aveva con Slim Jim. Che cos'è Slim Jim? È una marca di snack che si vendono solo in America, che sono snack di, diciamo, carne giacca. Le ho provate anche io. Fanno schifo, però, sai, essendo snack proteici... Fanno molto schifo. Fanno molto schifo. Che, in teoria, non fanno ingrassare. Ovviamente, il miglior testimonio che gli puoi dare è un wrestler, no? E, Macho, grazie a questo contratto con la Slim Jim, in realtà, lui divenne famosissimo. C'è anche al di fuori del mondo del wrestling, perché poi, per anni e anni e anni, lui rimase il volto. Anche dopo il ritiro, fino ai primi anni, sì, sì, sì. Esatto, esatto. E arriva portandosi questo contratto di, all'epoca, 750.000 dollari, pensate. Quindi, un sacco di soldi per la WCW. Pensate, il contrario di quello che fa Hogan, invece, è che quando va in WCW, chiede alla WCW di investire sul ristorante Pasta Mania, di cui abbiamo parlato in un altro video. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. E quindi, un altro problema, però, è che Macho arriva in WCW in un momento pessimo, no, Luca, per la WCW. 94-95, la WCW soffre, perché va avanti, essenzialmente, grazie a alcuni wrestlers. Fondamentalmente è la federazione di Hulk Hogan. Cioè, Hulk Hogan gira tutto intorno a lui e Hulk Hogan ha preteso che i suoi amici fossero nel main event. Infatti, nel primo pay-per-view in cui c'è Macho, qual è il main event? 94-94 è Hulk Hogan contro The Butcher, che sarebbe Ruthus the Barber, che faceva parte della Dungeon of Doom. Esatto, quindi quello che volevo dire, è un momento pessimo, perché c'è questo miscuglio fra Hogan, quindi un vecchio over-essere con una gimmick ormai che non piaceva più, e tutto quello che la WCW si trascinava dai suoi tempi, insomma, di federazione ancora locale, quindi la Dungeon of Doom, queste cose che funzionavano poco. Quindi, primo problema è che Macho arriva in quel contesto. andando avanti, però, arriviamo al... quindi deve stare dietro Hogan, come al solito, ed è in un momento non ottimo per la federazione. Arriviamo però al periodo dell'NWD. In quel periodo, scusa Francesco, i rapporti tra Hogan e Macho Man sono buoni, ricordiamo che loro hanno sempre un po' il rapporto tra cane e gatto. loro erano migliori amici, poi quando Macho Man lascia Elizabeth, no, perché Macho vede in Hogan e l'Inda e nei loro tresche una delle cause della fine del rapporto, poi fanno pace, in questo momento sono in pace. Esatto, esatto. Infatti pare che abbia anche, insomma, Macho Man per andare in WCW abbia chiamato Oga, non che ne avesse bisogno, no? Non che ne avesse bisogno, certo, però sì, è andata così. Arriviamo al periodo NWD e qui secondo me c'è un grande, il primo dei grandi what if, diciamo, della carriera di Macho in WCW. Perché? Perché Macho è in quel match famosissimo a Bash at the Beach in cui gli Outsider e il Mystery Man, che poi si rivela essere Al Kogan, appunto sconfiggono il team WCW e viene formata l'NWD. Lì, in teoria, nei mesi successivi Macho è il capofila del gruppo WCW che si oppone all'NWD. Perché Macho viene attaccato da Ogan, no? Ogan fa le troppe proprio a Macho Man. Proprio a Macho Man, esatto. E lì, secondo me, la WCW avrebbe potuto utilizzare Macho Man, appunto, come l'anti-NWD. E lo prova il fatto che a un certo punto, siamo nel 97 ormai, Macho torna, dopo un periodo, insomma, in cui si era stato un po' fuori, con un nuovo look, quindi ha abbandonato i vestiti sgargianti, colorati, il cappello, ha un look molto più dark, vestito di pelle, quindi più adatto ai tempi. All'epoca erano tutti vestiti di pelle, in WCW, se ci fate caso. E fa un famoso sit-in di 15 minuti in cui si siede sul ring, picchia una serie di jobber infinita, finché non arriva Sting. Sting, che in quel momento, era nel periodo in cui, appunto, era diventato black e white, non parlava, si stava avviando verso, appunto, il famoso Sting, contro Hogan, Sting, a Starcade del 97, e si crea un'alleanza fra questo nuovo Macho Man e Sting contro l'NWO, e sembrava funzionare molto, a parte perché Macho era perfetto in quel ruolo, piaceva al pubblico, era molto più cool, così, poi, insomma, Macho lo poteva rimettere ovunque, e poteva essere una grande cosa, secondo me, solo che succede subito dopo, come nella, quella che è stata la tradizione della WCW, tradimento immediato di Macho Man a Sting, e Macho entra nell'NWO, perché? Perché Eric Bischoff aveva detto, se vuoi tornare, però devi tornare come membro dell'NWO storiale. Quindi, noi ne abbiamo parlato tante volte, Luca, quei problemi. È sempre la stessa cosa, È sempre la stessa cosa, tradimenti in ogni momento, ogni secondo, tutti dentro nell'NWO. A che serviva Macho Man nell'NWO? A nulla, ovviamente. Facciamo una lettura più ampia, andavano tutti dentro nell'NWO, perché avere una stable ampia faceva risplendere i capi della stable, che erano Hogan, che erano Nash, che erano Scott Hall, questo lo dice anche Big Show, The Giant, in cui più volte mi hanno fatto entrare per togliermi un po' di luce, per prendere a loro. Quindi, fare un grande NWO in cui si esaltavano solo i primi tre, i tre leader. Certo, certo. Da lì, ovviamente, il ruolo di Macho Man non brilla per niente, perché è perso in questa NWO, ne uscirà anche, a un certo punto, entrando poi nell'NWO Wolfpack, vincerà anche il titolo che terrà un giorno, che lui già aveva vinto il titolo nel 96, un mese, poi lo vince per un giorno, anche se lì si dice che in realtà probabilmente lui nel match si era fatto male, quindi gliel'hanno fatto perdere il giorno dopo per apparare questa situazione, e poi, insomma, da lì la carriera di Macho Man in WCW resta abbastanza evanescente. punti belli, però, che dobbiamo dire, un feud lunghissimo con DDP, bellissimo, un feud che dura quasi un anno con una serie di match che restano nella storia dei match più belli della WCW, vi consiglio di andarvelo a cercare, e un feud voluto da Macho che proprio voleva lavorare con DDP per far uscire DDP come nuova stella della federazione. Cosa anche? Storica la frase che gli dice nel backstage la notte in cui DDP vince il primo titolo, Paige, I'm gonna take the cutter tonight, quindi avrebbe preso quella che ora chiamiamo Archeio, perché fondamentalmente la Diamond Cutter è un Archeio. Esatto, la mossa finale, e perché Macho, crede io, perché Macho ha sempre avuto una grande visione del wrestling, ovviamente poi in quel contesto anche DDP non ha potuto fare più di tanto, e l'ultimo periodo della carriera di Macho lui si reinventa con un nuovo personaggio quasi dopo una certa assenza di Macho Madness torna palestratissimo, sì, un po' troppo gonfio, e questo balleremo con un look quasi da pappone e circondato da delle bellissime ballette, tra cui la sua nuova fidanzata dell'epoca, Gorgeous George, 23enne, che si chiama Gorgeous George perché? perché Gorgeous George era l'idolo di Randy Savage nel mondo del Vressi, che era un Vressi degli anni 70 a cui lui si era ispirato molto e talmente che gli piaceva che Macho comprò i diritti del nome Gorgeous George per poterli salvare e lo studiede a questa sua balletta. Insieme a lei c'era Madusa, c'era Miss Molly Magdress, Miss Magdress, esatto, e Macho quindi creò questo personaggio come dire, un po' particolare che oggi ricordavo soprattutto per il meme che vedete spesso a boccia meni quando fa Sand for the Man c'è una parte, insomma, c'è uno spezzone che purtroppo oggi è un po' brutto da vedere in cui Macho va nel backstage perché ha perso un match cerca appunto Gorgeous George dà uno schiaffo a Torrey Wilson che gli ride in faccia poi prende Gorgeous George e la butta per aria vabbè, comunque era una gimmick anche interessante da Hill che lui fece molto bene vinse anche per l'ultima volta il titolo poi da lì insomma l'ultimo anno fece un'apparizione in una Battle Royale a Thunder una Battle Royale che io e Francesco abbiamo visto due o tre volte perché esce spesso tra suggerimenti ragazzi andatevela a vedere perché in quella Battle Royale ci sono 60 wrestler forse di un valore alcuni enorme buttati lì per caso per caso esatto fa anche un match contro il nostro amico e leggenda dei Chicago Pools Dennis Rodman a Fall Brun 99 un match di 12 ma pensate questo è un testamento al valore di Marshall Manning perché era l'unico che poteva far uscire un match decente perché quello è un match decente di 12 minuti da Rodman che non aveva mai fatto un match wrestling alla sua vita singolo poi soprattutto Rodman presentatosi anche in quell'occasione non in ottima forma non in ottima forma quindi pensate la carriera di Macho in WCW più o meno finisce là farà una comparsa di una settimana in TNA ma quando verrà a sapere che sta per arrivare Hogan anche in TNA dice no va bene così io me ne vado e ovviamente gli ultimi della sua carriera insomma fece altro soprattutto si dedicò al cinema famoso anche per l'apparizione Spider-Man che all'epoca fu il film di supereroi con il maggiore incasso di sempre e poi si sposò per l'ultima volta con la moglie che lo ha accompagnato fino alla fine dei suoi giorni purtroppo morì poi insomma stava anche facendo dei video che forse facevano presagire un ritorno in in lui è andato nel videogioco lui è andato nel videogioco nel 2010 forse era anche molto attivo insomma su internet faceva molti video purtroppo è stato stroncato da un infarto mentre era alla guida che lo ha portato a schiantarsi contro un albero e morire anche lì ragazzi purtroppo un infarto a 50 anni non è normale così come non è normale però che alla fine della sua carriera Randy Savage avesse un fisico migliore di quello che aveva all'inizio è impressionante vedere la differenza di fisico tra il 94 e il 99 sì cioè il quadruplo è praticamente un buttafuori di una discoteca ma è proprio enorme e non ha nulla a che vedere col Mushroom Man di cui noi eravamo appassionati e fan all'inizio una cosa che è molto interessante da dire è che lui obbliga la WCW quando entra in WCW a mettere nell'Holo of Fame il padre no? sì angelo poffo angelo poffo presser degli anni 60 un po' così forzato nell'Holo of Fame della WCW come condizio sine qua non per assumere Mascio però insomma quindi una carriera quella di Mushroom Man in WCW sicuramente fatta di alti e bassi però comunque con dei momenti memorabili e io insomma vi ripeto ancora una volta di andarvi a vedere se volete cercare i suoi match in WCW quella serie di match che fece con DDP che è veramente secondo me forse il massimo della sua espressione in WCW e io comunque credo che la carriera di Mushroom Man in WCW sia rappresentata da una cosa Luca che noi abbiamo visto insieme per view che non ricordo nemmeno in cui il main event era Hogan contro Roddy Piper in maniera totalmente immotivata in un cage match schifoso ricordato come uno dei peggiori match l'azione del wrestling match match arriva scala la gabbia e si butta si butta dalla gabbia che era molto più alta di quella di ora con un double X su Hogan quindi un gesto atletico clamoroso rischiando la sua salute e tutto e Hogan si sposta non si fa nemmeno colpire bene e questo secondo me sintetizza perfettamente la carriera di Machen ha un po' o Machen ha un po' la sindrome del numero 2 di quello che arriva sempre secondo anche se non per colpa sua non per colpa sua anzi se vedete i documentari che fa la WWE a parte quando parla Hogan e parlano gli altri diciamo sempre oltre Hogan c'era solo una persona che poteva portare avanti la federazione dal 87 al 92 quello era Macho Man il problema è che c'era Hogan ed era molto ingombrante diciamo che era il numero uno dei normali Macho Man chiaramente agli occhi di Vince McMahon esatto beh amici della Madness per questa è tutto alla prossima alla prossima ciao ciao